Chiudi lo sportivo Ignazio Moser ha espresso di il desiderio di voler essere lui l'eliminato della prossima puntata andata che andrà in onda. Durante la decima puntata è finito in nomination con Ivanza Marazzova, Cristiano Malgioglio e la sua amata Cecilia Rodriguez. Ignazio Moser dal grande fratello VIP vorrebbe uscire e il ragazzo non sopporta l'idea di proseguire il gioco senza la sua amata Cecilia Rodriguez. Infatti subito dopo essere stati nominati entrambi avrebbe detto alle persone dirò di votare lei. Se devo scegliere tra uno di noi due, me ne voglio andare io? Adesso inizio il confessionale dicendo che io me ne vado a casa. Preferisco che resti lei, ma Ida Iespica e Giulia De Lellis hanno provato a farlo ragionare, dicendogli cosa stai dicendo tu devi voler restare. Lascia scorrere questa settimana. Lunedì si vedrà, Ignazio non riesce proprio a pensare di rimanere senza la sorella di Belen, altrimenti non saprebbe cosa fare durante la giornata. Infatti avrebbe continuato il discorso dicendo sono sereno, basta che non mi lasciano qua senza di lei perché non saprei come riempire le mie giornate. Avrà forse fatto un appello ai suoi fan per non far uscire Cecilia? Fonte foto htts www.instagram.com Ignazio e Ivana trattino basso gif vai flittra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez La passione è alle stelle I ragazzi non riescono a contenere il loro amore e la loro passione, tanto che sono stati ripresi dalla stessa produzione. Gli avrebbero detto di tenere un po' a bada le loro emozioni. Diversi sono stati gli episodi un po' spinti tra i due, come quello che è avvenuto all'interno dell'armadio. Dopo che Cecilia ha lasciato in diretta TV Francesco Monte, l'ex fidanzato, non si sono più nascosti. Sono in tanti però che vorrebbero vedere la coppia fuori dalla casa più spiata d'Italia. Vedremo cosa accadrà lunedì, fonte foto htts www.instagram.com Ignazio e Ivana trattino basso gif vai flitt se ti è piaciuta la notizia, condividila sui social. Grazie